Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Tassiki e benvenuti in questo nuovo episodio di HG of the Day Anche detto minigame se è possibile E siamo su iPixel come sempre E siamo su TNT Run Questo è il secondo gioco di TNT E non so come funziona la prima volta che ci gioco Quindi vediamo un attimo cosa bisogna fare Presumo che Tipo dobbiamo scappare, dobbiamo cercare di non morire e cadere come se fosse uno spliff La gage è un pochetto però adesso dovrebbe essersi ripreso Comunque stanno scoppiando un bel po' di TNT Cerchiamo di non morire velocemente Continuiamo usando lo sprint che è la cosa migliore Ok ci sono davvero poche persone rimaste ormai qui Allora quel tizio probabilmente Oh no merda Sono il secondo layer, sono il terzo layer ragazzi Cavolo Guarda quanti tanti che sono belle, carine e coccolose Allora dobbiamo cercare tipo di non cadere Presumo che ci siano tipo 4-5 layer massimo Dopo quelle poi si cade la morte quindi GG Adesso ci sono 22 player giocanti In tutte le layer Aia merda sono caduto proprio nel buco Ok siamo ancora di tipo in un brutto In una brutta posizione Però penso che ne farò un altro E' interessante il fatto tipo Che sembra tipo un puzzle Guardate sono tipo 1 2 3 4 5 layer Sì avevo detto giusto allora Ci sono ancora 15 giocatori Abbiamo 6 coin in totale Non sono tanti però sono comunque abbastanza Però lei Ne abbiamo fatta Tipo tutti stanno morendo in modo abbastanza Bastanza brutto Guardate questo tizio che è ancora sopra Al terzo layer Ah ma ce ne sono altre quindi No no bugia Ok Penso che tipo morirà molto presto Oh 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 Quindi ogni cosa che tocchiamo Sparisce Interessante Ti puoi buttare se vuoi Tranquillo Non succede una mazza Voglio vedere che cosa succede se vinciamo Potremmo avere le coin Maybe Ok Piccolo singhiozzo E molti sono morti Vedete questi sono tutti quelli che sono morti Sono rimasti in 2 Ok Penso che sia uno quello Che sta saltando ancora L'end Quello tizio Ah e lì ce ne sono altro Ok Penso che questo cadrà molto presto Anche l'altro probabilmente Vedremo Chi vincerà tra secta E L'altro che è morto Che è morto l'altro Mi dispiace Ok Panda No no Secta è vinto E gg per lui Va bene Allora io andrei a fare un altro T-N-T-Run Interessante questo giochino Però Eccolo qui Abbiamo 11 su 24 player I save the pixel sono molto carini Anche per il fatto che Si riempiono molto velocemente Quindi non restate bocca asciutta Cioè se avete finito un game già Potete rientrare senza problemi Ed è gg proprio Mi piace qualcosa Ok Ehm Penso che questa volta invece di durare un po' di più Ehm Che cavolo Perché c'è un buco qua? Vabbè Penso che tipo sia una Una cosa già fatta Quindi Boom Ok Manca davvero tipo due persone C'è anche un VIP Penso che il VIP non abbia nulla di speciale Il tizio cerca di scappare Ok Sette Ehm Good luck everyone Good luck to you Two GL Good luck Allora Cerchiamo di scappare Opla Allora Qui è un po' complicata la questione Allora Io direi Facciamo Corriamo tipo Così Oh cavolo Siamo con l'utigena seconda layer Sono abbastanza stronzo il tizio Ok Facciamo tipo giro giro tondo Forse penso sia il metodo migliore Ovvero girare in tondo Che generalmente tipo Nessuno lo fa E potremmo anche tipo Attaccare la gente Mentre Arriviamo a un qualche punto Utile Ok Opla Questo è un po' più difficile Ma non tanto Cioè potremmo vincerlo abbastanza facilmente Se rimaniamo Qui in questo layer Sono 11 player ancora No Merda Sono caduto in questo layer Maledizione Non dovevo star fermo Aia No 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 Uh Scappa scappolisse scappolisse Sei player sono rimasti Davvero ce ne sono pochi No Stronzo Perché sei passato Quando passavo io Sei una merda tizio Davvero Go 4 3 Penso che tipo Siamo rimasti in pochissimi No era un po' più Oh è morto quel tizio Davanti ai miei occhi Va bene Chi altro rimane Non so Non riesco a vederli Ehm C'è qualcuno C'è qualcuno E qua Niente E qui sono tutti morti Ok Eccolo lì Quello che stava un attimo scendendo E probabilmente adesso cadrà e morirà Ecco qua Che sta tipo Cercando di sopravvivere in qualche modo Ce la farà Ero pancake A vincere Ed è un Amaschi da pancake Che ho sbaglio Tizio pazzerello Ok Ehm Vediamo Oh interessante Bravo Bravo lui Bravo Ce la fai? Nah Non penso che ce la farà Oddio You jump Double jump Eh Oh è morto No no non ancora Quasi 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 Ci sono ancora due player Ma che cavolo è l'altro? Oh pancake Era in difficoltà adesso Di qui non c'è nessuno Quindi buon Questo sia l'unico lui Ok Sta un attimo chiudendosi In modo giusto Perché sta facendo un giro Come ho già detto io Questo sia il metodo migliore Probabilmente Perché così almeno avete più Ehm Punti Senza problemi Potete saltare Ehm Non vi chiudete In Bivi Oltre non so dove sia Sinceramente ragazzi Penso che sia sopra Mmm Ce la farai? Ce la farai? Tanto adesso cadi? Tanto adesso cadi? E controllo Controllo Dai cadi 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 bello Cadi No Pancake non ce la farà? Eh Adesso vedete che però Sta finendo un attimo Il layer Quindi probabilmente Fra poco O cambierà zona Fate quello che sto facendo Oppure morirà Bene Io pensavo che morisse Però Ok Opla Dai muori E' finire Ok Continuiamo un attimo Un altro Dov'è? Eh Eh Penso che sia questo Oh No Eh Non so dov'è Quell'altro tizio Sinceramente Non ho la mia idea Ah Era lì sopra Va bene ragazzi Vi saluto anche per questo episodio Come sempre Se volete Mettete un bel like E un bel commento Sotto qui Qui sotto Insomma E Come sempre Trovate il link In descrizione Se non conoscete Pixel Quindi ragazzi Al prossimo Hg Of the day Ciao ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti